Sono stati riuniti in un unico fascicolo i due processi riguardanti il cosiddetto sistema montante. Lo ha deciso il Tribunale Collegiale di Caltanissetta nell'udienza di questa mattina. Si tratta dei due processi in corso con il rito ordinario. Uno è quello con 17 imputati scaturito dall'inchiesta Double Face, l'operazione che nel 2018 aveva portato all'arresto dello stesso Antonello Montante, il quale aveva però optato per il rito abbreviato. Il secondo, con 13 persone rinviate a giudizio nei mesi scorsi, scaturisce dal nuovo filone d'indagine che riguarda le presunte ingerenze politiche di quello che è conosciuto come il cerchio magico messo in piedi, sempre secondo l'accusa, dallo stesso Montante e dai suoi fedelissimi. Una decisione che i giudici del Tribunale hanno preso visto che i due processi riguardano aspetti di una vicenda legata dallo stesso filo conduttore e anche per evitare incompatibilità dei componenti del collegio giudicante, che se i due dibattimenti rimanessero separati dovrebbero astenersi dal trattarne uno, causando così ritardi alla prosecuzione. Una volta disposta la riunione dei due processi, il Tribunale presieduto da Francesco D'Arrigo ha rinviato l'udienza al prossimo 26 settembre.